Adesso si è ripreso, partiti! Poi in ritardo Doggy Tail, dal gruppo partono bene Alagos, Ape Regina, Andreino in corda in secondo linea Amadei, poi ancora Rocca Porena che oggi corre molto sotto, Roman Piss, Nuracale per via interna, Cima Sandown all'argo di tutti, Doggy Tail, Valden Trullis e Zandonai che sono quelli che chiudono. Alagos in vantaggio in giubba bianca, su Ape Regina in giubba blu scura, all'interno in giubba Paglierino in corda Andreino, il Dormigliano Amadei che anticipa Roman Piss e che a sua volta anticipa Cima Sandown, Rocca Porena a giubba verde e maniche cap giallo nella scia di Anderino per via interna, poi il grigio Zandonai con il cap Bordeaux, Valden Trullis a chiudere Doggy Tail in bianco rosso verde e Nuracale in giubba Bordeaux. Alagos in fuga da Ape Regina, Amadei perde molto terreno in questa fase, all'interno Andreino e Rocca Porena, si avvicina anche Zandonai che deve cercare il buco, siamo ormai al primo traguardo con Alagos in fuga da Ape Regina, Andreino, Zandonai, Rocca Porena, Valden Trullis e Doggy Tail, Alagos ancora in fuga sotto l'attacco di Zandonai a largo, nell'ultimo tratto Alagos che viene a concludere su Andreino e Zandonai vicini per la miglior piazza. E' pericolosissimo il team quando si muove, lo ribadisce anche in questo caso Alagos, Fabio Branca per signor Di Legge al training, signora Rispoli ai colori, mentre per il secondo sono vicinissimi Andrino all'interno e Zandonai a largo.